Il settimo raduno dei veicoli storici a Nicosia ha nuovamente lasciato a bocca aperta appassionati e curiosi, radunando oltre un centinaio di autovetture provenienti da ogni angolo della Sicilia. L'evento, meticolosamente organizzato dall'Associazione Veicoli Storici di Nicosia sotto la guida di Gianluca Rizzo, si è svolto giorno 1 e 2 giugno, con grande soddisfazione di tutti i partecipanti. Nel pomeriggio di sabato 1 giugno, due sessioni di a spasso con i piloti hanno permesso a giovani di tutte le età, inclusi alcuni ragazzi con disabilità, di provare le emozioni di una gincana nel piazzale, grazie alla competenza dei piloti e alle dovute misure di sicurezza adottate. La mattina del 2 giugno, un corteo di oltre 100 veicoli storici tra auto e moto ha preso il via dallo stesso parco Robinson. Il tour ha attraversato il centro storico di Nicosia, le pittoresche campagne circostanti e la vicina Sperlinga fino a giungere a Gangi, uno dei borghi più belli d'Italia. Gli equipaggi, accolti dagli assessori Stefano Sauro e Tiziana Ballistreri, hanno visitato il borgo guidati dagli stessi amministratori che si sono rivelati eccellenti ciceroni. Tra le tappe principali, la chiesa dell'Abbadia e il Palazzo Buongiorno, dove l'associazione Veicoli Storici ha ricevuto due libri in dono e ha ricambiato con una targa commemorativa. Il tour è poi proseguito lungo le suggestive vie di Gangi, culminando nella centrale Piazza del Popolo, con il suo bel vedere, la statua in bronzo di Giuseppe Salerno, noto come lo Zoppo di Gangi, e la torre dei Ventimiglia, che domina la chiesa madre di San Nicolò di Bari. All'interno della chiesa, i visitatori hanno potuto ammirare il celebre Giudizio Universale, opera dello stesso artista. Il reduno si è concluso con un pranzo presso il ristorante La Torretta di Nicosia, durante il quale sono state consegnate targhe di ringraziamento agli sponsor e all'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Luigi Bonelli e dall'assessore Nando Zappia. Ulteriori riconoscimenti sono stati assegnati ai vari gruppi motoristici siciliani e dai veicoli più particolari. La giornata si è conclusa con una grande torta celebrativa, simbolo della settima edizione del Raduno, carica di emozioni e soddisfazioni. Questo evento non solo ha celebrato la passione per i veicoli storici, ma ha anche rafforzato il legame tra le comunità locali e i partecipanti, creando un'atmosfera di condivisione e scoperta delle bellezze siciliane. Il Raduno ha dimostrato ancora una volta l'importanza di preservare e valorizzare il patrimonio automobilistico e culturale della regione. L'appuntamento è ora fissato per il primo fine settimana di ottobre, quando si terrà la seconda edizione del Gran Premio La Motta. Nicosia si prepara a diventare nuovamente la capitale europea del motorismo storico, con un altro evento che promette di affascinare e coinvolgere partecipanti e spettatori.